dai perchè a scorrere qua? bene a tutti ragazzi abbiamo di trovare una video dove faremo tante scoreggie che schifo e' schifo che putto in mare e' oggi faremo l'obbligo obbligo con le scorre vai vedere la pistola spara scorre senti che pupi che esce allora pesco io tutti quanti saprete che come funziona perché l'abbiamo fatta con mia mamma e con mio papà che sta facendo in telecamera adesso ok vai pescita per primo mescoliamo vai amore brownies pesca attenzione a tutti come fa il t-rex vai la le zampe così così deve tenere le mani vai fai il t-rex un t-rex con la un pollo il t-rex fa coccorocca quello è chicken è un t-rex che si è cagata sotto vai chicken park no quel dito vai ok dai dai ok questo è un t-rex ballerino pesca a me c'è schiavone uno sfida a braccio di ferro contro chi? ora war arm wrestling challenge che mi straguardo di 300 visualizzazioni giù bene col gomito pronti partenza via va spencer ahi no non si mozzica non si barra non si barra altrimenti ci arrabbiamo no ahia hai vinto brownies sono un bra sono bra hai vinto un po' imbrogliando ma hai vinto mmm un po' troppo imbrogliacchiando no 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 vale pescane uno senza guardare pescane uno senza guardare dai basta brownies bene senza guardare dai pescane vediamo cos'è no col dito eh cantare i pokemon i pokemon canta la canzone che sai dei pokemon vai qui dai viva i pokemon dai sei colpetti tutti differenti viva i pokemon che stanno andando per il mondo la lancerò come i remi e folle no no guarda non ce la fa un elfo io sarò come la mia palla che c'era una vai toccarla alla mamma mettersi il piede in bocca guarda no no i papadio che schifo guarda dove lo metto anche io riesco che schifo gli elfi restano questo e l'altro l'elfo dice quello e questa cosa vogliamo vedere anche se papà riesce a farlo però fare dieci salti alti dieci salti alti non saltellini del che devi toccare il soffitto con la mano belli alti dieci io li conto ma no dai bene devi alzarti almeno 30 centimetri da terra eh dai dai bravo non scorreggiare insieme vai uno due tre via dai vai vai continua che santo vada li stai lievitando metri da terra sei il lievito della pizza però guarda sembri quello guarda il brownies e colore della tela uguale va si che cade giù il mondo guarda 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 il gatto che si spaventa col palloncino vediamo io cosa esce quanto c'è scritto hanno usare piedi di papà per dieci secondi filmo io nooo filmo io non guarda no aspetta no no sto quadrando il piede voglio farlo io sto quadrando il piede ma c'ho io per favore dai piede sto quadrando il piede non spegnere non spegnere non spegnere vai vado in apnea quattro cinque sei sette no respira vai fatto azzarola azzarola questo è niente mangiare una pizza no mangiare un pizzico di pepe vai a prendere il pepe portalo qua che dobbiamo vedere ma con il pene no il pepe mi piace buttarsi mi piace buttarsi quello nero quello nero è il pepe nero è il pepe nero dai è il pepe è il pepe l'ho detto io ma devi inalarlo però no mangiare inalarlo poverino veramente si cominciava col pepe ecco così no troppo no non ce la fai stai male dopo si vai vai adesso voglio vedere chi chi prende questi tutti sputati vai a bere vai a bere vai a bere vai a bere volevi la ciale ma no vai a bere il tè queste stupidaggini che deve fare sempre vai a bere il tè dai che io leggo la mia gialla baciare il culo del baddi ti l'ha scritto si l'ho scritta io ma è andato via poverino ho già paura che ho fatto cadere tutta quella roba no 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 bevi bevi piano 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 la Lamu mai tocca ancora la Lamu quando ci parli di baciare il culo arriva la Lamu chissà come mai vieni Lamu faccia il culetto la mamma vieni baci il baddi non c'è Ray è spaventatissimo se vuoi fare la challenge baci quello della Lamu raga sempre cane e aspetta che devi vedere quella raga che bacia il colo raga che schifo dai pesca l'ultimo col tarzanello col tarzanone quello che penso deve capitarmi è bagnato è roba tua adesso non si può più togliere dai è rotto dai lo riesci fai 10 squat vai cosa sono gli squat cosa sono gli squat ah quelli 10 2 3 vai 4 5 6 2 2 il filo in fondo 3 su va ancora 3 ancora 4 vai su ok L'ultimo L'ultimo E' l'ultimo Fammelo leggere Tutto sbausciato No quello che voleva capitare a me Tutto sbausciato Ma Ma schifo il pepe Imitare papà Max Ma Rai smettila Bravi Vediamo come imita papà Che tazera Sarpi Cosa Stai imitando te stessa Mi sa Ora cosa ha combinato Brownies Magrits 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 Ti vedi Ma palestra Palestra La ragazza è combinata Barca miseria Arrivano due sbagli E fai una cosa così Se lo fai Vai finita la challenge Guardate Guardate qua tutta la farina E' perfetto Saluta Ragazzi Purtroppo questo pene Questo pene E' finito qua Lasciamo sette like per il prossimo pene Insieme a mia madre Insieme alla mia nana Ciao Mamma che si chiama pene Di soprannome Ciao 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 Ciao